Benvenuti e bentornati ad incontro con l'artista e siamo qua con un grande artista. Ho qua con noi Luca Bellandi, nato a Livorno però è qua nella nostra zona, poi ci dirà il motivo, laureato all'Accademia delle Belle Arti a Firenze e io parto Luca sempre con una domanda ai nostri artisti perché partiamo da piccoli o perlomeno da quando è nata questa passione per l'arte? Ricordiamo che le tue opere sono esposte in tutta Europa, negli Stati Uniti quindi in giro, però quando parte questa tua passione? Salve a tutti, nasce molto tempo fa da quando ero molto piccolo, sin dall'elementare ma forse anche prima. La mia esigenza primaria è sempre stata quella di comunicare attraverso il disegno. Mi isolavo frequentemente, disegnavo, è sempre stato uno spazio sacro per me che mi sono portato dietro fino adesso e che non mi abbandona, non mi ha ancora abbandonato, spero che non mi abbandoni mai perché è uno spazio sacro e questa è una cosa importante da conservare ed è quello che sto facendo. Certo, e quindi nasce questa tua passione, com'è il tuo percorso? Hai fatto, quindi oltre alla laurea, prima hai fatto scuole sempre a Tinelli? Sì, ho fatto un istituto d'arte a Pisa, dopodiché ho fatto l'accademia d'arte a Firenze, ho iniziato il mio percorso fatto anche di vari lavori, varie esperienze lavorative, fino ad arrivare al punto di prendere una decisione e imbarcarmi in questa avventura che è l'arte. E da lì abbiamo iniziato anni fa e ora siamo sempre sul territorio, ci siamo espansi, siamo andati in giro, dico siamo perché questo lavoro ti porta a conoscere molte persone che ti aiutano comunque ad espandere il lavoro e ad andare in giro. Benissimo, quando inizio, o hai la tela davanti per iniziare una sua opera, che lavoro viene fatto prima? Lavoro apprettamente, per quanto mi riguarda, apprettamente mentale, nel senso, rilaboro delle cose durante il giorno, la mattina, il pomeriggio, a pranzo, diventa difficile giustificare che stai lavorando quando ti fissi su un orizzonte, però è così, è così, rielaboro. Per poi mettermi al lavoro, il mio lavoro di pittore è molto vicino alla scultura, nel senso che non faccio mai un disegno preparatorio sulla tela. Inizio, ho un'idea e vado a cercarla. La cerco aggiungendo materia, togliendola, cancellando, fino ad ottenere, come lo scultore, una forma che da lì mi fa partire, mi fa entrare nel quadro. Sì, sì, di quello. Sì, è stato di andare a cercarlo, il quadro. Ok, quindi è un lavoro di pensiero che c'è prima, durante il giorno, durante le spese, sempre. È un modo di essere. Ok, quindi quando ti incontra qualcuno e ti trova magari sommerso nei tuoi pensieri, magari quei pensieri poi... Sì, non sono stanco, sto lavorando. Ok. Allora, quindi mi dicevi che questa passione nasce fin da piccolo, c'è questa evoluzione fino ad arrivare veramente al tuo lavoro. Sì. Cosa, ecco, c'è qualcosa anche della tua vita che riesci a mettere poi nelle tue opere? Ma guarda, direi che la mia pittura è molto autobiografica, nel senso che tutte le esperienze personali, di lavoro, di vita, poi convergono un po' in quello che è il mio mondo. Parlo di me attraverso il colore, attraverso delle scritture, delle frasi, attraverso le forme. È tutto un insieme, è tutto un insieme dove io parlo di me, parlando anche di altre cose. Però il fatto di avere anche la gestualità stessa e la riconoscibilità ti fa capire che il linguaggio è il tuo e parli di te comunque. Ci sono anche elementi ricorrenti. Sì, l'abito per esempio che è, diciamo, la firma per quanto riguarda il mio lavoro e che io intendo come un sarcofago moderno, me lo porto dietro da una vita perché l'abito conserva l'anima delle persone. e fa parte di quella, di una sensibilità che mi appartiene da sempre, l'anima, al di là della bellezza estetica che è importante, ma soprattutto è quello che c'è dentro e che si spera che faccia trasparire la bellezza anche fuori. Quindi l'abito è la tua firma? Sì, è la mia firma che contraddistingue il mio lavoro da anni e che diciamo è una bandiera. Si trova a New York, in Australia, a Londra, in Russia dove ho delle gallerie di riferimento e comunque è il marchio. È il marchio. È il marchio, oltre ad altre cose, però quello, diciamo, è quello che mi rappresenta. Certo. Parlavamo prima, no, di collaborazioni, quindi oltre, ecco, sei qua a San Mignato per la mostra, in collaborazione con... Con Casa d'Arte San Lorenzo. Benissimo. Che mi ha dato questa opportunità, in questa rassegna a San Mignato, di essere presente con questa mostra nel complesso di San Domenico. Una mostra curata, con catalogo, curata da Roberto Milani e da Filippo Lotti, che hanno fatto un lavoro egregio. Che ringraziamo. Che ringrazio, perché veramente hanno fatto un lavoro ottimo, direi. Che hanno portato qui a Clivio. Che mi hanno portato qui a Clivio, la mostra, il catalogo, che non è facile, in questi tempi, avere un catalogo così. E soprattutto, l'allestime, hanno curato, insomma, la mostra nel migliore dei modi. Benissimo. Allora, parliamo anche un attimo, no, dei progetti futuri. E su cosa stai lavorando adesso? Ma, guarda, adesso, mercoledì prossimo, il 5 di dicembre, faremo una performance live, lì, nel complesso San Domenico, dove c'è la mostra che durerà fino al 9 di dicembre. E questo delle performance è una cosa che sta prendendo piede. Abbiamo iniziato con Casa d'Arte San Lorenzo, quest'estate, a fare questi set live, come mi piace chiamarli a me, perché c'è molta vicinanza con la musica, col concerto. Ok, spiegami un attimo, di cosa si tratta? Sì, praticamente lavoro su un quadro, è come se fosse nel mio studio. Ok. Perciò è tutto molto concentrato, ovviamente non voglio annoiare le persone, perché non sono il primo io ad annoiarmi. E allora è tutto concentrato in mezz'ora, 40 minuti, dove io dipingo… Si parte proprio da zero? Da zero. Da zero. Con una tela di un colore che sceglierò, nero, oro, e lì inizio, andando a cercare il quadro, come dicevo prima. Ok. A mio rischio è pericolo, però è una cosa talmente elettrizzante che… Chi viene là, ti vede costruire il quadro… Sì, di sana pianta. Di sana pianta, sì. Fino a un certo punto, poi ovviamente il quadro dovrà essere terminato, però si potrà vedere l'impronta di quello che sarà. Bellissimo, quindi non mancate a questo appuntamento perché penso sia… No, anche perché mi piace, più gente c'è meglio è, anzi mi esalta. Ti aiutano? Sì, 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 molto. Ok. Ho scoperto di avere questa attitudine al pubblico, anche, dicevo, a riferimento musicale, sono un fanatico, un amante della musica, che mi accompagna come disegno da sempre. E fare questi riferimenti tra il concerto live e il live painting, ho trovato la mia dimensione. Ok, quindi non c'è bisogno di isolarsi, no? Per creare… Guarda, è una questione personale, io sono una volta anche sfrontato, spesso sono sfrontato, scendo le cose, sono nel mio studio e ci sono dei momenti dove sono intrattabile, dove non voglio che nessuno entri nel mio studio. Per quanto possa essere intrattabile, sono apertissimo a cose del genere che, ovviamente, se sei predisposto ti esaltano. Certo. Non sono il pittore che si inibisce di fronte… E poi, ti ripeto, è a mio rischio e pericolo. Io vado e poi cosa succede? Siamo un po' come al teatro, no? Io vedrei a vedere solo per quello, perché magari se sbaglio tutto uno si fa anche due risate. Ok, può diventare anche una cosa comica, no? Sì, 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 anche una cosa comica. Spiega ognuno, però. Ok. Quando vai in giro, insomma, per rappresentare, insomma, nelle mostre, come in questo caso, no? Sì. Chi viene a vederle così, ti fanno delle domande, hai un rapporto con il pubblico che viene? Sì, sì, sì. Mi piace avere il rapporto con il pubblico. Mi piace poter chiarire, non raccontare il quadro, ma chiarire un po' quello che sei te. A me è capitato di amare dei quadri e di odiare degli autori. Questa è una cosa che ti mette un po' in difficoltà, però poi è vero, ti devi limitare al quadro. Se capita, io aiuto molto volentieri anche senza farmi riconoscere più delle volte. Ok, quindi non dai una spiegazione sul quadro, ma intervieni. No, ti parlo di da dove viene questo quadro. Ok, ok, senza dire... Poi ognuno può dare il proprio significato. I quadri sono indizi per tutti, eh. Ci possiamo scrivere sopra qualsiasi cosa. In realtà il quadro, per me, è un indizio, per chi lo guarda. Perché ognuno di noi poi si crea la storia sul quadro. Te puoi dargli un'indicazione, poi se uno compra un quadro e se lo mette in casa, poi ci fai film, come si dice. Si fa i suoi. Eh, perché comunque si apre anche lì un mondo, no? Di motivazione, di... Ognuno si personalizza anche perché compra quel quadro. Magari gli dà una motivazione che è ben lontana da... Magari non sai neanche perché ti colpisce. Ci sono dei quadri che ti ipnotizzano. E sai che devono far parte di te, della tua vita. Poi negli anni forse scopri cos'è che ti ha attratto di quel quadro. E quella è la cosa bella. È che comunque c'è un... Arriva in qualche maniera. Arriva un messaggio, arriva la sensibilità. Arrivano tante cose. Bello. Veramente bello perché comunque si... L'arte, no? Anche della pittura è magia e allo stesso tempo... Emozioni, trasmettere emozioni. Per me è trasmettere emozioni. Emozioni, arrivare... Come una canzone. Ci sono quelle canzoni che ti porti dietro da una vita. E che ascolti e che tutte le volte che le ascolti ti danno sempre la solita emozione. Che non ti abbandona mai per il quadro, per qualsiasi forma d'arte. Anche un monologo, un libro, qualsiasi cosa. Sono i monologhi che mi ricordo di film qualche anno fa che ti rimangono impressi. Che ti rimangono impressi. Comunque hanno dei messaggi che in qualche modo te li sei fatti tuoi. E così è con i quadri. Allora, io faccio una domanda. Loro lo sanno, la faccio a tutti gli artisti che vengono qua a trovarci. L'arte l'abbiamo dentro un po' effettivamente da quando siamo piccolini. Però non è neanche facile riuscire a seguire quella strada là. Quando sentiamo che c'è quella passione, o come scrivere un libro, o come dipingere, o come fare il cantante, o quant'altro. Cosa ti senti di dare come consiglio ai giovani, ma anche ai meno giovani, che hanno questa passione e magari non l'hanno mai seguita fino in fondo? Ma guarda, questa è una domanda a cui rispondo volentieri perché è una domanda importante. Io ho avuto la possibilità, perché non ho avuto il freno da parte di nessuno, di poter portare avanti questa passione. Ti ripeto, io ho avuto anche una vita, un altro tipo di vita, dove ho lavorato come tutti, alternavo. Poi ho preso una decisione. L'ho presa dopo tanto, però per me era un'esigenza importante. E tornassi indietro lo farei molto prima. E quello che mi piacerebbe trasmettere, e che vorrei trasmettere anche ai miei figli, ai ragazzi che vogliono affrontare, magari hanno una passione, è di crederci e di darsi del tempo per provarci. Perché siamo abituati a prenderci del tempo per tutto, e magari trascuriamo questo lato, che poi si può rivelare importante. È un fatto di coincidenze, di fortuna, si sentono dire un sacco di cose. Ci sono dentro tante cose. Un meccanismo è complicato, ma la cosa importante è il lavoro. Se uno è convinto, ha una passione, la sente dentro e lavora, i risultati poi arrivano. Non è così per tutti, ma è un rischio che c'è in tutte le cose. Sì, in qualsiasi cosa, in qualsiasi lavoro. E come sempre, no? Si torna sempre lì. Tanto, tanto lavoro. Tanto studio. Lavoro, sacrificio, che poi si era una passione, non è un sacrificio. No, perché hai un obiettivo. Arrivi a essere stanco, ma non è un sacrificio. Passione, questo senso di libertà, questa possibilità di gestirti completamente, di assumerti tutte le responsabilità anche, però di gestirti e di poter essere anche, boh, c'è questa utopia ormai della libertà, forse con la passione io sono convinto che si può ottenere la libertà interiore. Parlavamo prima, no? Dell'artista che praticamente rimane sempre un po' un Peter Pan, un bambino. Sì. Un po' a volte ci sentiamo così. Ti succede anche a te? Sì, mi succede. Ora io Peter Pan non è che ce l'abbia troppo simpatico, perché è un'immagine troppo sfruttata. Ok. Però mi adeguo a… Prendiamo un altro personaggio. A parte gli scherzi, comunque è vero. È un portofranco che ti porti dietro, scusate il gioco di parole, è una riserva, ecco, una riserva dove te puoi andare e sai che le cose non sono cambiate e hai tutto a disposizione, tutti i mezzi a disposizione. Dove poter creare, lavorare, divertirti. Poi esci da quella porta e affronti il mondo, la vita con tutte le problematiche, con tutte… ma è importante avere quella porta lì o quel cassetto pieno di cose personale. E lo abbiamo un pochino già detto, però quanto è importante il divertimento nell'opera finale, in quello che viene fuori? Beh, ma per me è un buon 80%, perché se c'è sofferenza è prima, per me è prima. L'artista è maledetto, sì, dipende prima, durante, dopo. Io preferisco essere felice dopo, esaltarmi con le performance, con una bella mostra, brindare, parlare, raccontare. Mi piace che i momenti di tensione, di tristezza, di amarezza, devono rimanere lì, in quella porta, dietro quella porta che abbiamo detto prima, nel mio studio. Benissimo. Allora noi, Luca, ti ringraziamo veramente. Grazie a voi. È stato un onore, è un piacere averti qua con noi. Quando torni nel nostro territorio, torna a trovarci. Sicuramente, noi siamo vicini, perciò non sarà un problema. Infatti, noi verremo sicuramente, insomma, a vedere le tue mostre. Vi aspetto, vi aspetto. Quindi vi rinnovo l'appuntamento, incontro con l'artista, con altri artisti qua nel territorio. Ciao a tutti e grazie. Salve. Ciao a tutti.